Assessore Spandre, allora in questo mare di manifestazioni c'è anche mare di pagine? Sì, mare di pagine è una manifestazione che ha già avuto i suoi successi negli anni precedenti ed è praticamente introdotta nel palinsesto dell'offerta estiva delle manifestazioni. Quindi è redatto in collaborazione con il consigliere delegato Gramondo che ringrazio per la sua opera sempre molto attiva. Volevo ricordare appunto, come abbiamo già detto, che comunque questo palinsesto offre circa un centinaio di manifestazioni, di appuntamenti quindi quasi una quotidianità con dei picchi di qualità importanti.